fermi tutti ho la strategia segreta per guadagnare sul mercato è molto semplice prendi due conti su uno compri sull'altro vendi a fine giornata su una avrai persi tutti i soldi sull'altro invece avrai guadagnato tanto fai vedere quello in cui guadagnato tanto e sarei ricco e famoso questo è purtroppo la grande illusione che ti fanno credere che ci sia una strategia di trading la migliore in assoluto per poter guadagnare il sacro grado la soluzione delle soluzioni non esiste sappi che non esiste ci sono tante ottime strategie ma tante 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 che sia sulle cripto su forex sulle opzioni sull'occaso come di sprezzo per trading sui fondi comuni dove vuoi ce ne tantissime quello che bisogna saper fare e gestire il denaro a livello mentale con il money management e la diversificazione questo è un'unica di cui 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 è un' Grazie a tutti